Il tuo gatto miagola quando lo accarezzi? In questo video di Animalpedia spieghiamo perché lo fa. Presta attenzione per conoscere meglio il tuo felino. Perché il mio gatto miagola quando lo accarezzo? Il miagolio è una delle forme di comunicazione caratteristiche dei gatti. Questo suono, così tipico tra loro, ha molteplici varianti che dipendono da ciò che il nostro gatto vuole dirci. Ci saranno gatti più o meno loquaci e tra quelli più inclini a comunicare in questo modo. Avremo la possibilità di osservare un vasto repertorio di suoni. Sarà nostro compito imparare ad interpretarli e quindi comunicare con il nostro compagno felino. Per rispondere alla domanda su perché un gatto miagola quando viene accarezzato dobbiamo prima conoscere i significati dei miagolii più comuni. Questi sono i seguenti. Saluto! È il tipico miagolio che mette il nostro gatto quando arriviamo a casa o quando ci incontra. Avrà un tono felice. Richiesta! È un miagolio insistente e molto chiaro, soprattutto se il gatto vuole ottenere qualcosa in modo molto intenso, per il quale utilizzerà un tono alto e non si infermerà finché non lo ottiene o si arrende, cosa di solito molto rara. Sorpresa! È un breve miagolio simile a un piccolo pianto che il nostro gatto produrrà alla vista di qualcosa che gli interessa e gli fa piacere, come quando gli avviciniamo il suo cibo preferito. Calore! Se abbiamo una gatta non sterilizzata, quando andrà in calore, cosa che può succedere in qualsiasi momento dell'anno, miagola ha un tono molto acuto, insistente e quasi come se fosse un urlo. La sterilizzazione pone fine a questo comportamento. Conversazione! Ci sono gatti a cui piace particolarmente interagire con gli umani e sono in grado di stabilire un dialogo con noi, così da miagolare risposta ai nostri commenti, potendo seguire la conversazione per minuti e minuti, quasi come se il nostro gatto parlasse. Chiamata di attenzione! Quando il nostro gatto ha annoiato o ha bisogno del nostro contatto, può emettere un debole miagolio, che forse evoca quello con cui il gatto comunica con i suoi piccoli. Posizione! Ricordando anche il rapporto della mamma con i suoi piccoli, il nostro gatto può miagolare ad alta voce, quando si vede rinchiuso da qualche parte o se ci ha perso di vista per casa. Aiuto! A volte un gatto malato o ferito può richiedere nostra attenzione con un miagolio accurato, che varierà a seconda delle sue condizioni e può assumere un tono più o meno serio e profondo. Disgusto! Quando il nostro gatto si trova in una situazione che lo mette a disagio, miagola per protesta. È quello che possiamo sentire quando, ad esempio, lo chiudiamo nel trasportino per andare dal veterinario o, in alcuni casi, quando lo lasciamo da solo. Allora, perché miagola quando viene accarezzato? Dobbiamo tenere a mente che la prima e più importante cosa è conoscere il nostro gatto per capire il significato dei suoi miagolii, poiché ogni gatto svippoerà con noi il suo linguaggio. Se il tuo gatto miagola quando lo accarezzi, di solito è dovuto a ciò che possiamo considerare come feedback. Il gatto è a suo agio con le nostre carezze e reagisce con miagolii di richiesta per chiedere di continuare. A volte emettono anche una specie di beep, segno di piacere, di felicità, oltre che le fusa tipiche in questa situazione. Pertanto, se il nostro gatto miagola e fa le fusea contemporaneamente mentre lo accarezzi, è un ottimo segno. Tanto è vero che se smettiamo di accarezzarlo, è probabile che miagoli più intensamente per chiederci di continuare, strofinando la testa e schiena contro mani e gambe. In ogni caso, sebbene questo sia il comportamento più comune, i gatti non hanno una scienza esatta e per questo motivo dobbiamo osservare il nostro compagno per determinare le chiavi della loro comunicazione con noi. Poiché, sebbene sia meno comune che miagolino in questo contesto, è possibile che accarezzando un'aria indesederata provino dolore e miagolino per dirci di smettere di toccarli. Allo stesso modo, è possibile che il gatto miagoli quando lo portiamo in braccio per gli stessi motivi, dolore o disagio. Questo miagolio sarà totalmente diverso dal precedente, improvviso e molto più forte. In questo caso, è conveniente controllare il nostro animaletto e, se necessario, recarsi presso un centro veterinario. Dicci, il tuo gatto miagola quando lo accarezzi. Alla prossima volta, esperti! Alla prossima volta, esperti!